Per quanto riguarda la vicenda di Giulio Reggetti, cosa le ha promesso al senso? Chiarezza e giustizia? Ma io sono qua da un mese e mezzo ragazzi, quello che posso fare in un mese e mezzo è aver preso un aereo, andare al Cairo. Ci possiamo fidare che gli egiziani sono passati due anni e mezzo, ci sono stati dei pistaggi, arresti, non si è arrivato a nessun punto della verità. Del passato non rispondo, sono contento ieri aver preso un aereo la mattina di essere andato al Cairo, aveva incontrato il presidente egiziano, aveva incontrato il ministro degli interni, aveva avuto garanzie di tempi brevi, risposte certe, serie, sulle colpe e sui colpevoli e spero di tornare al Cairo la prossima volta per parlare di business, di commercio, di turismo, di agricoltura. Io penso che quello che mi è stato detto ieri avrà dalle conseguenze fra non molto tempo. Sulla cosa, sui filmati della metro, dato che ancora su quelli non ci sono gli spezzoni completi, vi ha dato delle garanzie? Ho messo chiarezza, avrete chiarezza rapidamente, non metto becco sui tempi della giustizia egiziana, però mi fido... C'è da due anni e mezzo il presidente. Ho capito ragazzi, non rispondo del passato, rispondo del futuro e quindi ho in programma di tornarci a breve e quindi conto di avere anche risposte a breve. Lei ha posto comunque delle tempistiche per arrivare alla verità?